Ultima giornata di campionato, Bresto resurrezione. Entrambe le squadre già salve, il campionato non ha più nulla da offrire se non una buona chiusura del torneo. Ancora senza portiere, Bresto schiera a strada in porta, Roberti in difesa, centrocampo a Torraca, Bottiglieri e Marletta, attacco a due con Pisello Catanzaro. In panchina Monzani. Al quarto minuto di gioco il Bresto si porta in vantaggio con un tiro da fuori aria di Marletta, leggermente deviato da un difensore. Gli ospiti si avvicinano al pareggio da calcio di punizione, ma il pallone si ferma sulla traversa. Al quarto d'oro del secondo tempo il Bresto allunga il vantaggio con un gran tiro di bottiglieri che si stampa all'incrocio dei pali. La resurrezione ha poche occasioni e Sada si fa trovare sempre preparata. Finisce 2-0, il Bresto chiude il campionato al nono posto con 30 punti, un campionato reso ancora più difficile da una rosa estremamente corta, ma giocato alla grande da una squadra che quando è in condizione può fare grandi cose.